Ciao a tutti da Svippo, oggi preparo il tottino a cioccolato dal cuore morbido. Gli ingredienti 100 grammi di zucchero semolato 20 grammi di cacao amaro 60 grammi di farina 60 grammi di panna fresca 100 grammi di cioccolato fondente 100 grammi di burro 2 uova cacao e zucchero a velo quanto basta e del distaccante per i pirottini che vado a fare dopo. Ho messo 2 uova dentro una zucca vado ad aggiungere lo zucchero e il cacao e vado a mescolare con una frusta una volta mescolati vado ad aggiungere la farina e il primo impasto è pronto in un pentolino ora faccio sciogliere il cioccolato a bagnomeria una volta che il cioccolato si è sciolto vado ad aggiungere il burro e continuo a mescolare per finire aggiungo la panna ora aggiungo i due composti una volta mescolati i due composti è pronto per essere messo nel pirottino vado a imburrare il fagottino con lo spray e aggiungo il cacao una volta pronto il pigottino vado ad aggiungere la crema con questa dose ne sono usciti 5 ora li vado ad impornare a forno preriscaldato ventilato 170 gradi per 8 minuti il tortino è pronto ora ci faccio una spolverata di zucchero al velo e vado a fare la prova del 9 ecco qua ciao da Zio Pippo alla prossima ricetta